Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Football. Oggi ragazzi andremo a parlare di una notizia di mercato per quanto riguarda la Juve che ci sta effettivamente provando per Leo Messi e Suarez. Come al solito prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdervi nessun video e lasciare un bel like a tutti i video. Prima di iniziare il video volevo anche dirvi due cose. Allora la prima è che questa settimana, settimana e mezzo passata non ho potuto fare video perché ero in vacanza e infatti volevo godermi la vacanza nel migliore dei modi per poi tornare ancora più forte a fare video. Infatti ragazzi ora sono tornato a casa in questi giorni usciranno tanti video spero, credo di riuscire a farli, quindi mi raccomando un motivo in più per rimanere sintonizzati. La seconda cosa che volevo dirvi, anzi che volevo chiedervi, vi chiedo di darmi un'opinione sui video da portare nei mesi che arriveranno. Va bene, ora di calcio mercato, ma a un certo punto il calcio mercato finirà e quindi volevo chiedervi a voi che tipologia di video piacerebbe vedere. ad esempio dei post partita oppure dei pre partita della Lazio, di altre squadre, di altri big match insomma. Niente, quindi volevo chiedervi la vostra su cosa vi piacerebbe vedere sul mio canale quando finirà il calcio mercato tutte le news delle squadre. Sicuramente però continuerò a portare news sulla Lazio perché vabbè la mia squadra è il cuore. Detto questo ragazzi noi possiamo iniziare il video. Come vi ho detto prima, calcio mercato Juventus, i bianconeri ci provano sia per Messi che per Suarez. Trattative difficili ma arrivano conferme dalla Spagna. Infatti ragazzi, anche se le trattative sembrano molto difficili perché Messi e Suarez due palline in Barcellona che comunque sono in uscita però costeranno veramente tanto anche per gli ingaggi e poi per Messi soprattutto c'è una grande vicinanza del City che è la favorita per il suo approdo appunto al City. Però comunque come leggiamo da questo articolo la Juve ci vuole provare. Allora, anche la Juventus guarda con interesse a ciò che succede a Barcellona. Bianconeri con le antenne ben dritte non solo per la situazione Messi. La Juve sogna anche Luis Suarez per l'attacco. Trattative entrambe però piuttosto difficili. Ma secondo AS i campioni d'Italia intendono provarci tentando di ribaltare i pronostici come avvenne nel 2018 per Cristiano Ronaldo. Infatti ragazzi nel 2018 Cristiano Ronaldo approvò alla Juve. Sembrava ormai cosa impossibile ma la Juve è riuscita a trovare questa svolta nella trattativa e ha fatto venire Cristiano Ronaldo. Quindi ragazzi non si sa un punto interrogativo. Io non credo che Messi soprattutto poi Suarez si vedrà andrà alla Juve però ragazzi con la Juve non si sa mai. Poi l'articolo continua. La testata spagnola conferma quanto scritto ieri dall'equip con i contatti presi dai piemontesi per la pulce. In Paul c'è sempre il Manchester City. Magnelli e i suoi vogliono farsi trovare pronti se la situazione lo permetterà. Ragazzi se Messi andrà alla Juve veramente cioè voi fatemi voi scrivete nei commenti cosa ne pensate. Se preferireste vedere Messi alla Juve all'Inter al Manchester City o al Paris Saint Germain. Allora io sinceramente alla Juve in realtà non ce lo vedrei molto bene. Vabbè a parte che c'è anche Cristiano Ronaldo con quella Juve diventerebbe ancora più forte però non credo che secondo me Messi e Ronaldo assieme riuscirebbero a trovare una grande intesa secondo me. Anche che per l'Inter è una trattativa difficile. Io ragazzi ce lo vedrei bene o in Inghilterra o al Paris Saint Germain. Ormai come ho detto prima la trattativa col City è molto vicina diciamo. È probabile che Messi vada al Manchester City. Però io secondo me la squadra dove lo vedrei meglio per concludere la carriera anche se non è proprio alla fine ma non tanto gli manca è al Paris Saint Germain. Perché il Paris Saint Germain è un campionato un po' più semplice comunque quest'anno ha fatto molto bene, è arrivato in finale di Champions, ritroverebbe il suo compagno Neymar e lì potrebbe vincere ancora molti titoli e divertirsi per gli ultimi anni della sua carriera. Io lo vedrei bene al Paris Saint Germain anche se è probabile che vada al Manchester City. Poi Juve in posizione di rincorsa anche per Luis Suarez cui sarebbe stato proposto un anno di contratto con opzione per il secondo ed un ingaggio di poco superiore alla metà attualmente percepita. Quindi circa 15 milioni di euro. Anche in questo caso corsa in salita ma sviluppi da monitorare. Quindi ragazzi come abbiamo visto la Juve ci sta provando seriamente per Messi e Suarez. Detto questo ragazzi questo video può finire qui. Mi raccomando consigliatemi i video che vorreste vedere. Detto questo vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina a lasciare un bel like e noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!